Ciao ragazzi, buongiorno a tutti, Misurina, prima gara di Coppa Italia, stiamo andando e posso vedere i giovani promettenti per la stagione 2013. Speriamo bene, dai! Sì, andiamo! Speriamo bene, dai! La stagione inizia bene, sia sotto il punto di vista fisico perché comunque ho dimostrato di esserci, nonostante fosse una gara parecchio adatta alle mie caratteristiche, quindi sapevo che avrei potuto contare su un minimo di margine. Ma la stagione inizia bene anche e soprattutto da un punto di vista mentale, che è quello che in questo momento conta di più. Trovare la motivazione di allenarsi, con la consapevolezza di star bene è sicuramente un vantaggio rispetto magari agli altri inizi di stagione miei. Sono contento, una stagione che si preannuncia buona, a patto che il fisico e le motivazioni tengano. Comunque un buon punto di partenza. sono venuta qui in buona preparazione, è vero che è solo l'inizio stagione, però questo sicuramente mi dà un input ad iniziare bene la stagione. Adesso a gennaio avrò la prima gara di Coppa del Mondo, per cui parto già in modo positivo e che dire, qua a Misurina mi porta sicuramente fortuna. Già l'anno scorso per me è stata una bella gara, quest'anno ancora di più, quindi ben venga.